eccomi qua sono pronta ho organizzato la nostra postazione la pittinatura è sempre quella che è in questo periodo e io ho procurato la cinghia della capatoio del mio capatoio personale che ho qua in spugna ma voi potete avere usato anche potete prendere anche una cinghia non importa di che tipo l'importante che sia almeno lunga più di un metro metro e mezzo poi oltre alla cinghia della capatoio ci serve una pallina da tennis che è questa qua che penso che tutti quanti possiate aver trovato da qualche parte a casa vostra rubate al cane se ce l'ha qualcuno le ha per far giocare i cagliolini io invece a casa ho questa pallina riccia che di quelle che utilizziamo in palestra però se voi non l'avete non ve ne preoccupate usate quella da tennis diciamo che questa qui con questi puntini riesce ad essere più efficace a livello dei tessuti sottocutanei quindi riesce a penetrare un pochino di più e diciamo lo stimolo è più intenso e anche migliore perché è molto più vario se non avete quindi questa cinghia questa pallina bella simpatica con tutte queste puntine vi prendete questa pallina da tennis naturalmente quelli che lo vedranno registrato questo video avranno più tempo di cercare le loro cose e adesso noi ci apprestiamo ad eseguire una lezione dove partiamo con la pallina dalla stimolo del piede per arrivare a massaggiare la muscolatura delle gambe e la utilizzeremo anche per massaggiare i muscoli del collo soprattutto i trapezzi che sono in questa direzione qua in questa zona qua e andremo così a sollecitare il nostro corpo attraverso questo stimolo di massaggi quindi di stimolo a livello manuale di automassaggio è molto bello quando te lo fa un altro purtroppo non abbiamo almeno io non ho nessuno che mi massaggi in questo momento penso neanche voi quindi cosa c'è di meglio che usare le nostre stesse mani quando non c'è nessuno che ci può dare una mano prepariamoci in piedi potete anche se avete problemi di equilibrio appoggiarvi una sedia o un mobile o prendere un bastone di legno appoggiavi in modo da non sovraccaricare eccessivamente l'altro arto quindi adesso io mi metto laggiù in fondo vi ricordo che sul piede andremo a trattare vari punti adesso vi faccio vedere il mio piede sotto non è molto carino alluce queste sono tutta la zona del metatarso quella parte più larga il tallone quindi noi andiamo a trattare tutta la zona del metatarso sotto le dita la parte interna del piede la parte esterna del piede il tallone e tutta la superficie della fascia plantare adesso io mi metto qua che è più lontano voi potete vedermi per intero io ho messo il tappettino potete però è meglio se utilizzate un oltre il tappettino se non mettete volevo dire non mettete direttamente la panina nel pavimento ecco perché scappa quindi non riuscite poi a prenderla io userò questa qui con i puntini poi voi se avete poi la panina da tennis prendetela e inoltre io mi porto ce l'ho qua a disposizione se no non sarebbe niente mi prendo un bastone ma non è necessario fortemente l'importante è che abbiate equilibrio vi poggiate da qualche parte quindi comincerò ad utilizzare il piede destro mi metto di lato per farvelo vedere un pochino meglio e andrò a posizionare l'alluce nella zona metatarsale quella parte più larga del piede e comincerò dall'alluce per poi andare a percorrere tutte le dita lavorerò poi sulla zona del metatarso sulla parte centrale sulla parte del tallone quindi cerchiamo tutti i punti del piede dopodiché farò tutto un insieme se lo fate per quanto vostro dopo questa lezione volete stimolare il vostro piede ricordatevi di contare almeno fino a 8-10 tempi se no lo stimolo troppo brando e non riuscite a sentire niente quindi se riuscite anche di più specialmente se avete problemi di fascite plantare tallonite, dolori ai piedi di qualsiasi genere, problemi di circolazione quindi ritorno venoso, piedi gonfi, tutte queste situazioni sono ottimali li potreste fare anche seduti su una sedia però l'intensità dello stimolo è molto più blando quindi magari lo potrebbero fare le persone se avete una persona anziana a casa che ha bisogno di stimolare il piede potreste farglielo fare seduti su una sedia potrebbe essere comunque un ottimo modo per lavorare magari è più blando ma quelle persone hanno bisogno di uno stimolo molto più delicato allora partiamo con questo piede che sto parlando e parlando e che sto facendo ancora a limite allora mettiamoci qua e andiamo a mettere la pallina, ve l'ho detto, nella zona metatarsale le nostre dita, come se fosse un pugno, si chiudono sulla pallina come se facessi un pugno con la mano poi si allargano, si spalano allontano e si ristringono quindi allardiamo le dita, chiudiamo le dita io mi sto tenendo il bastone giusto per una questione di equilibrio quindi stringo le dita come se fosse la mia mano che fa il pugno, si apre il pugno espirando ed inspirando, mi raccomando, nella chiusura l'espiro espiro ed inspiro quindi stringo, rilascio rilascio stringo, rilascio rilascio stringo, rilascio stringo mantenendo sempre la pallina lì eseguo questo movimento di oscillazione laterale quindi vado a portare il piede come se fosse una culla a destra, a sinistro chiamiamolo a movimento a tergipistallo come vogliamo metterlo ok? quindi da questa posizione qua faccio oscillare il piede questo mi va a stimolare non solo il piede ma la capiglia e l'articolazione dell'anca e quindi mi prepara anche l'anca e quindi continuo su questa dinamica di mobilizzazione di tutto l'arco inferiore in poche parole poi mi fermo e vado a sentire la pallina proprio sotto l'osso dell'algo cioè diciamo dove viene l'algo e da qui trasferisco il peso del corpo in avanti e indietro quindi non è che schiaccio con il piede è diverso porto il peso del corpo in avanti quindi sento che il mio peso si trasferisce sulla pallina senza esagerare non schiacciate troppo che se no mi fa male e non serve quando vado in avanti espiro quando torno indietro inspiro e ora porto la pallina un pochino più al centro quindi tra il secondo e il terzo dito e vado nuovamente a portare il peso del corpo in avanti il piede è rotondo diciamo crea una sorta di cupola sopra la pallina andando ad espirare ed ispirare e continuo ispiro ed ispiro sempre dondolando in avanti e indietro una sorta di altalena ancora ispirando ispirando fuori l'aria ed ispiro ognuno di voi sa come è il piede quindi ci dia l'intensità che ritiene opportuna poi mi sposto e vado sul quinto dito l'ultimo dito e vado di nuovo qui ad oscillare avanti e indietro e a portare il peso del mio corpo in avanti e indietro dopodiché anche qua mi fermo e comincio di nuovo questo movimento oscillatorio e anche qua vado di nuovo a preparare caviglia ginocchio anca sempre con delicatezza senza forzare mi raccomando quindi uscilla poi uscilla io ho il tappetino sotto quindi la pallina resta molto molto ferma non mi scappa quindi continuo su questa dinamica poi mi fermo la porto un pochino più indietro e porto il centro del piede proprio la parte alta qui magari siamo un pochino più delicati facciamo più piano quindi espirando ed ispirando mi porto avanti torno indietro sempre con questa dinamica espirando ed ispirando espirando ed ispirando avanti indietro avanti indietro espiro inspiro espiro e da qua attenzione adesso proprio ci metto il tallone poggiate bene vedete il piede alla terra sempre con questa dinamica di pressione quindi tallone che sentiamo che preme sulla pallina andiamo ad oscillare avanti e indietro naturalmente l'altra gamba fa da sostegno io ho preso il bastone perché mi aiuta anche a diciamo a evitare di buttarmi troppo sulla gamba opposta e continuo con questo tipo di piccola pressione mi fermo e vado ad oscillare leggermente a destra e a sinistra anche in questo caso quindi cerco di sentire bene tutto il tallone che venga interessato da questo movimento poi mi fermo e comincio a collegare andando avanti e indietro ogni dito con il tallone quindi prima un dito poi l'altro quindi la fanno tutti e cinque quindi poi andiamo sul dittino più piccolo e lavoriamo un po' sull'esterno del piede io ho ruotato la caviglia all'interno poi ruoto la caviglia all'esterno e massaggio la parte interna del piede magari ve lo faccio vedere così si vedrà un po' meglio forse quindi massaggio la parte interna e dopodiché faccio un po' diciamo invia veloce casuale dove capita un po' da tutte le parti muovo il piede muovo il ginocchio muovo la caviglia faccio più o meno varie angolazioni in modo che tutto venga qui disegno dei cerchi quindi sotto al centro al proprio centro del piede faccio dei movimenti circolari e questo soprattutto mi fa bene anche la manca e poi disegno dei cerchi nella direzione apposta quindi vado a muovere bene 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 il piede mi fermo lascio andare e appoggio posso constatare da subito guardando i miei piedi che forse qualcosa è cambiato e me ne accorgo anche soprattutto se faccio dei passi intorno quindi mi accorgo di come il piede ha un maggior appoggio e non solo se io mi metto un equilibrio su quel piede che ha fatto il lavoro potrò constatare come il mio piede si spalma bene la terra e cambio piede e mi accorgo che l'appoggio non è proprio lo stesso ma non solo se io mi metto bene qua faccio una bella ispirazione butto fuori l'aria faccio un roll down lentamente scavando dall'addome mi accorgerò anche che le tensioni della parte posteriore della gamba sono diverse ma non solo solo teniamo la colonna e veniamo su proviamo a sollevare la gamba a quella che ha fatto l'esercizio a fare delle mini circonduzioni sia 4 da una parte e 4 dall'altra e poi provate a fare dall'altra parte vi sentirete l'anca sicuramente è un pochino più rigida che non risponde subito non è che non ce la facciamo però diciamo meno lubrificata e allora dopo aver fatto questo piccolo test andiamo a prendere la pallina e usiamo l'altra gamba quindi ci mettiamo con l'altro piede io mi ruocio da questa parte e vado di nuovo a posizionare tutte le mie dita sulla pallina e fare questa sorta di pugno che si apre e che si chiude quindi chiudo apro chiudo lo faccio con le mani perché mi aiuta anche con la mano perché mi aiuta a percepire meglio dipende da voi però a me mi dà questa sensazione se lo volete fare fatelo altrimenti non importa mi stringo lascio andare stringo lascio andare stringo lascio andare stringo lascio andare stringo mi fermo senza tenere le dita strette e vado ad oscillare da un lato all'altro quindi movimento laterale oscilla da una parte all'altra piano piano senza schiacciare eccessivamente magari si sposta un pochino il piede deve andare un pochino più avanti dell'altro che è quello che sta lavorando quindi andiamo su questa dinamica di oscillazione laterale ci fermiamo e portiamo la pallina il mio cappettino si è spostato e portiamo la pallina sotto la zona dell'alluce zona metatarsale rifacciamo come prima peso del corpo avanti e indietro con calma piano piano espirando in avanti espirando indietro quindi porto il peso torno indietro espiro inspiro fuori in aria ed inspiro magari potresti anche sentire delle differenze tra un piede e l'altro può essere che un piede vi fa più male un piede meno male poi andiamo un pochino più sotto le parti centrali quindi un mezzo tra il terzo e il quarto dito la pallina almeno prende quei punti tendenzialmente e continuiamo con questo spostamento dal preso del corpo ispirando ed ispirando e andiamo sotto le ditine quelle più piccine e lo facciamo anche là continuiamo su questo spostamento laterale ci fermiamo al centro e rifacciamo sempre nel metà tarso questo movimento di oscillazione andiamo da una parte all'altra da una parte all'altra da una parte all'altra e continuiamo su questa dinamica qua 3 2 e là centrale parte centrale del piede mi raccomando il tallone è appoggiato quindi continuiamo ad andare avanti e indietro espirando ed ispirando cuore in aria e ritorno cuore in aria e ritorno soffio ispiro mantenete sempre l'addome attivo la colonna allunga non accasciatevi fondamentalmente adesso noi stiamo lavando qua quindi andiamo anche qui a mobilizzare lateralmente l'ho detto che serve per l'articolazione del ginocchio della caviglia e dell'anca quindi va a preparare anche queste strutture continuiamo a farlo ci spostiamo andiamo a portare il piede in avanti la pallina sotto il tallone e di nuovo andiamo a portare il peso avanti e indietro ispirando ed ispirando quindi sento la pressione e la spinta del mio corpo sul tallone mi porto in avanti mi porto indietro ispirando ispirando quindi fuori l'aria inspiro fuori l'aria inspiro fuori l'aria inspiro mantengo e vado di nuovo a oscillare destra e sinistra destra e sinistra da un lato all'altro continuando su questa posizione qua a volte la pallina o il tappetino tendono a spostarsi quindi rimettere un pochino a posto non c'è un problema ci fermiamo e cominciamo a collegare tutti i punti del piede quindi abbiamo dato dall'alice al tallone dal secondo due dito al tallone al terzo al quarto tutti quanti tutte quante le dita cominciamo a farlo un pochino più rapido e andiamo a lavorare sulla parte esterna del piede quindi ho ruotato il piede verso l'esterno mi giro anche da qui per farlo vedere un po' meglio e poi vado a lavorare sulla parte interna del piede mi sto crescendo andiamo qui a lavorare sulla parte interna e poi disegniamo anche dei movimenti circolari quindi piano piano così morbido morbido ed anche i cerchi dalla parte opposta del piede così veloci su tutti i punti quant'altro diciamo zigzag dove capita capita adesso prendete più punti ruotate il piede verso l'interno verso l'esterno e ci prendiamo e la pallina la spostiamo un attimo poi con il bastone come non serve più e riporto l'attenzione sugli appoggi e faccio un bel respiro e poi fuori in aria bene come vi ho detto prima provate a fare qualche passo vi accorgerete subito della differenza e adesso prendiamo la pallina in mano e andiamo a fare un lavoro di stimolazione col tocco quindi andiamo a dare dei picchiettini così come se fosse un tamburello su tutti il muscolo della coscia del gluteo andiamo proprio così a picchiettare 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 con la pallina senza farmi male naturalmente quindi andate dietro la coscia la parte posteriore la parte laterale la parte interiore quindi tutti questi picchiettamenti così con la pallina attenzione non dove c'è l'osso del ginocchio dove c'è muscolo il polpaccio sapete di tenere la muscolatura morbida non rigiditela quindi continuiamo su questa dinamica qua ok andiamo per poi andiamo appoggiamo la pallina e cominciamo a fare questo apporto andiamo a picchiettare con le mani bene come se ci picchiassimo ok senza sperare andiamo proprio a riscaldare tutto il muscolo bene così e sono sicura che sentirete tutta una sorta di formicolio in questa gamba molto più pronta troviamo l'altra dai coraggio andiamo sull'altra gamba anche qua picchiettiamo uno volendo potrebbe farlo anche con due palline perché così diventa anche più su più punti più attivo se ne mette solo una va bene così andate anche sul polpaccio lasciate in modo che il polpaccio non sia contratto quindi deve essere morbido quando lo fate non deve essere rigidito se lo poggiate per terra si rigidisce quindi bisognerebbe tenerlo sollevato poi ci fermiamo poggiamo la pallina e anche qua andiamo a diciamo a scuracciarci per bene possiamo fare contemporaneamente su tutte e due le gambe e dunque massaggiate fatte anche dei cerchi e sicuramente le nostre gambe ora sono pronte sono belle riscaldate andiamo a prepararci e a lavorare un pochino sulle gambe visto che le abbiamo prese prendiamo anche la cinghia però ok quindi abbiamo preso la cinghia l'abbiamo in mano ci entra in gioco anche la nostra cinghia e la prendiamo un pochino più larga delle nostre spalle facciamo questo movimento di attivazione verso l'esterno la stendiamo e la pieghiamo quindi cerchiamo come di farla diventare più lunga quindi deve esserci un po' di attivazione non deve essere morbida andiamo a spingerla la teniamo tesa solleviamo le braccia e ispiriamo e facciamo la stessa cosa sopra la linea della testa e andiamo la lasciamo andare poi la pieghiamo la lasciamo e la tiriamo lasciamo e tiriamo lasciamo e tiriamo mantenendo l'attesa che è lunga ispirando tenendo l'attesa saliamo ispirando scendiamo il problema è sollevarci in punta di piedi e ritorniamo giù ispirando 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 mantenetevi belli lunghi ok così ispiro ispiro mantengo la mia posizione con la cinghia tesa inclino leggermente il busto da questa posizione qua da una parte all'altra cercando di mantenervi lungo però quindi ispirando 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 abbasso le braccia mi ruoto faccio girare prendo la cinghia e questa è un'ottima cosa da fare quando non si arriva cosa succede? noi vogliamo fare uno stimolo esterno prendiamo la cinghia leghiamo la cinghia con un fiocco così magari è più facile slegarla e sentiamo sopra la linea del ginocchio che andiamo a spingere in fuori non avendo un ring a casa io e il recu diciamo cerco di stimolare le gambe nello stesso modo utilizzando la cinghia mantengo bella posizione e faccio dei piegamenti naturalmente se è troppo l'alga si scioglie quindi manteniamola lì scendiamo in piegamento inspiro ed espiro vi accorgete che quando scendete giù la spinta delle cosce è quella di aprire la cinghia vale continuiamo inspirando ed espirando inspirando ed espirando inspirando mantengo la mia posizione qui attivo bene la spinta delle cosce verso l'esterno muova solamente le braccia le porto indietro inspirando in alto espirando inspirando espirando inspiro naturalmente petto in fuori spinta dietro sento le cinghia che viene spinta all'esterno inspira espira inspira espira mantieni le tue mani sulle ginocchia mobilizza il tratto lombare naturalmente sto sempre spingendo in fuori con le gambe sempre attivando verso l'esterno ispirando 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 ed ispirando sono qua abbasso la cinghia all'altezza dei polpacci quindi ho questa dinamica più o meno metà gamba non sulle caviglie quindi è come se avessi un ring adesso non ce l'ho il ring è un pochino più elastro questo è un pochino più rigido e mi fa lavorare di più e di qua allora da questa posizione riportiamoci impiegamento ve ne accorgerete subito che come si scende giù andate a sentire proprio l'attivazione della cinghia che vi blocca no? vi fa sentire la tensione provate adesso a stare qua contate 1 2 3 e poi venite su aprite le braccia 1 2 3 espiro ritorno mi allungo 1 2 3 e sentite come si impinge bene come sentite bene la spinta dei vostri polpacci sulla cinghia 1 2 3 e ritorno ancora 1 2 e così riusciamo a far lavorare tutta la muscolatura esterna laterale continuo così 1 2 3 ancora 2 volte 1 2 3 l'ultima volta 1 2 mantengo questa posizione qua ok riporto le mani all'altezza del cuore porto il peso del corpo sulla gamba sinistra in questo caso per me mantengo qui spingo fuori porto il peso della gamba destra stacco e mantengo alterno questa attivazione fuori sento questo spostamento del peso del corpo adesso io mi giro ma voi state tranquillamente là ok quindi stacco ritorno stacco ritorno mi porto su ole e continuo a scendere con questa cinghia adesso l'ho mantenuta a livello delle caviglie portatevi leggermente in punta di piedi e poi indietro e anche quando vi portate in punta di piedi mantenendo la cinghia lì sentite come vi sollevate su e si attiva subito questa tensione esterna che se non ci fosse una cinghia uno mica la sente la sentiamo solo perché abbiamo una resistenza da contrastare manteniamoci qui in posizione solleviamo leggermente il peso io adesso mi porto in appoggio su una sola gamba apro le braccia e faccio delle micro spinte perché non è che posso spingere non è elastico quindi vado a tenere questa sensazione di micro estensione dietro uno due tre quattro cinque e sei ok le avevamo fatte due anche prima ci spostiamo sull'altro lato andiamo a portare il carico sull'altra gamba e di nuovo delle piccole micro spinte verso l'esterno sentirete questa tensione no? ma è cotta non c'è più di tanto continuo tre due e stop benissimo prendo la cinghia la sciolgo me la riprendo in mano e la vado a prendere l'accorcio la faccio diventare la metà quindi me la prendo così come se fosse una sorta di bastone se avete un foulard una cinghia comunque tenetela così cotta da questa posizione qui adesso le braccia sballo e dietro petto in fuori vado a sollevare la gamba come sollevo anche le braccia contemporaneamente ispirando ed espirando continuate che il mio tappetino si sta comportando male ispirando ed espirando ispiro ed espiro ispiro e adesso mi giro davanti a voi ispiro 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 mantengo mi aiuto con la cinghia la faccio passare sotto ok sotto il piede quindi adesso io me la prendo qua attivo la posizione stendo la gamba mi aiuto praticamente a stendere la gamba e vado a in questa posizione ad espirare guardate com'entra voi tenete le braccia larghe e quindi spigete verso l'esterno faccio una sorta di altalena con la mia gamba stessa spingo fuori torno su spingo fuori torno su spingo fuori torno su e ispiro intanto sono in equilibrio prendo con la gamba tesa in avanti do la cinghia io ho la gamba sinistra ho la mano sinistra apro verso l'esterno e aiutandomi mi metto qui di fronte tiro su la gamba mantengo questa posizione faccio delle piccole spinte su 8 7 6 5 4 3 2 e 1 e stop benissimo riprendo la cinghia porto qua adesso lo separo nuovamente le riporto in metà per metà adesso resto davanti non mi giro più faccio quadrati espirando inspirando fuori ed inspiro fuori ed inspiro fuori mantengo la parola lunga fuori ed inspiro fuori ed inspiro soffio ed inspiro mantengo le braccia morbide nello stesso tempo attiva senza irrigidere troppo le spalle fuori ed inspiro il resto qua appoggio bene il piede alla terra poi prendo la cinghia la separo cioè appoggio il piede quanto è distante quanto mi viene io di solito la prendo all'altezza del ginocchio poi apro le braccia e da qui vado a stendere e a flettere una sorta di alta lena con la gamba espirando inspirando soffia inspira soffia inspira soffia inspira soffia inspira soffia forza facciamo gli ultimi soffia inspira soffia inspira soffia facciamo proprio l'ultimo lasciamo la gamba tesa diamo la la cinghia tutta quanta alla mano destra apriamo cresciamo verso l'alto da qui la gamba piccola e spinta verso l'alto 8 7 6 5 4 3 2 1 e poi molliamo la cinghia la separiamo la teniamo dietro prima la separiamo in due la maniamo facciamo il testo così sciogliamo un po' le gambe la portiamo dietro di noi e quindi ci portiamo con i panni le mani bella boccia vedere la dietro bella attivi dietro da questa posizione facciamo salire le braccia inspirando ed espirando e proviamo a ascoltare la sensazione che è tenere così le mani non prendetelo troppo largo inspirate ascoltate cosa succede alle sca alle spalle al petto alle vostre stesse braccia mantenendo in estensione le nostre braccia lontano flettiamo le ginocchia portiamo il bacino indietro l'addome sulle cosce lasciamo andare la testa giù e le braccia salgono verso l'alto naturalmente con la cinghia è più facile sollevare le braccia poi con gana riprendiamo la nostra posizione srotolando la colonna cambiamo la posizione delle mani adesso quindi i palmi delle mani sono rivolti verso al contrario proprio abbiamo i palmi delle mani che sono come se avessi le mani sublute quindi vado a portare le mani indietro sentiamo come cambia è cambiata la sensazione no? l'attivazione delle spalle della schiena da qui inspirando del dorso naturalmente continuo ispiro 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 mantieni la tua posizione attiva flessione delle gambe quindi le ginocchia bene bene lasciati andare giù riportati verso l'alto ti rendi conto subito che le braccia vanno molto 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 più su ed è molto più facile questo serve per scaricare detenzionare le spalle del dorso lascia andare la testa poi piano piano recupera la posizione riabbassa le braccia io faccio andare la cinghia davanti alle gambe srotola la colonna ed espiro ed espirando mi porto su perfetto ora con calma andremo a lavorare sul tappetino naturalmente se avete bisogno di un cuscino sapete benissimo come si fa anche l'asciugamano non è il coronavirus è l'aria condizionata è bello l'aria condizionata però ti fa venire lo stavutino mettiamo l'asciugamano in questo modo qua e poi andiamolo a sederci adesso io questo cuscino lo sposto ok bacini bacini mi siedo proprio sulla parte finale del tappetino e prendo la mia cinghia prendo la cinghia lascio la gamba in questo caso la mia sinistra tesa e metto la cinghia sotto la gamba a destra la parte plantare separo metà metà per metà una volta che ho fatto questo tiro su il ginocchio inspiro e poi espirando fuori l'aria mi porto verso il basso da questa posizione qui mantenendo diciamo comodamente i gomiti a terra cerco quanta cinghia mi serve per poter andare verso il soffitto non lo so faccio una prova l'altra gamba è rimasta stesa a terra lunga quindi la gamba sinistra in questo caso potrei anche prendere un cuscino mettermi comodo bloccare le parti l'estremità della cinghia ed espirando ed ispirando spingo la gamba verso il soffitto fino a dove fa quindi espiro devo sentire un po' di tensione non fatelo a vuoto dovete sentire che un po' la cinghia tira e ispira è diverso dal tallo con l'elastico molto diverso espiro inspiro stand ritorno la gamba resta su prendo la cinghia solamente con la mano destra ok e la porto leggermente a destra poi la porto a sinistra e quindi faccio questa sorta di oscillazione di pulla da una gamba da un braccio all'altro da una mano all'altra e vado ad oscillare mi fermo e faccio disegnare alla gamba guida con tutte e due le mani dei momenti circolari ruoto ruoto e poi lo faccio andare anche dall'altra parte quindi giro 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 avvicino il ginocchio all'addome separo la cinghia una mano destra un pezzo destra un pezzo sinistra abbasso i gomiti sollevo il busto la testa le spalle mantengo questa posizione qui ok e vado ad estendere e poi riabbassare espirando e inspirando quindi cosa sento che spingo su e contemporaneamente la gamba da terra si va a sollevare espirando inspirando espirando inspirando se non ce la fate con la testa sollevata lasciatela appoggiata alla terra mantenetevi su qui in alto potete anche abbassare le braccia per renderlo più comodo o allargare questa gamba sale e discende inspirando giochiamo con la punta inspira espira inspira giù le spalle lontano dalle orecchie fuori l'aria giù inspira su fuori l'aria inspira fuori l'aria inspira fuori l'aria inspira fuori l'aria inspira metti tutti e due le gambette dentro ok da questa posizione chiudi i grubbetti verso il basso dondola nella posizione ti aiuti naturalmente con la cinghia se non ce la fai girati di fianco e poi espirando ti metti a sedere ottimo cambiamo gamba quindi mettiamo la gamba a destra in questo caso tesa la cinghia blocca il piede sinistro prendo più o meno la metà inspiro esruotando con l'espiro mi sdraio mi porto giù se mi serve mi posso anche mettere il cuscino perché no poi abbasso il piede quindi fletto il ginocchio la gamba espiro e inspiro quindi ho questa ho tensione quindi devo sentire che devo spingere non è a vuoto con le braccia che ho forza creo una diciamo una sorta di blocco nella possibilità della gamba che deve spingere con forza quindi deve attivarsi e mi tengo la gamba in alto da qui prendo tutta la cinghia solamente col piede sinistro con la mano sinistra scusate e poi vado a creare questa sorta di dondorio faccio scambiare la mano destra mano destra mano sinistra cercando di creare questa oscillazione qui e poi vado a aiutare il femore in questo caso la ruota tutta deve partire dal femore l'implimento e giro poi giro anche dall'altra parte 4 3 2 ok mi fermo qua a questo punto separo la cinghia buttando fuori l'aria sollevo e sollevo anche la gamba di sotto e così riva espirando inspirando espirando inspirando espirando inspirando espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro mantengo la mia posizione su e la gamba sale e discende inspira ed espira sali e scendi inspira e fuori l'aria attenzione giocate anche un po' col piede se vi va quindi utilizzate la caviglia la punta del piede continua su questa dinamica ritorna inspira fuori l'aria giù salgo discendo salgo discendo recupero infilo tutte e due le gambe in questo caso o ritorno ad un tolare e poi con calma mi siedo o mi giro di lato riposiziono qua ho tutti e due i piedi adesso quindi le lascio entrambi inspiro e poi scavando l'addome srotolo la colonna e mi porto giù appoggio la testa qui tutti e due i piedi quindi si attivano nella fase di salita espirando io ho sempre non è leggero non metto io tiro quindi devo spingere contro la forza delle braccia e continuo a salire espirando e devo lavorare sui femorali continuo espiro inspiro espiro le gambe restano su mantenendo questa posizione gli faccio fare adesso a tutto il bacino e anche il sacro dei cerchi quindi vado in rotazione ruoto 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 giro anche dall'altra parte 1 2 3 4 5 e 6 mantenendo questa posizione qui attivo come se mi arrampicassi sulla via delle gambe saldo 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 e avvicino bene separo avvicino le ginocchia al patto rifaccio un attimo questi rolling ok quindi rullo rolling like a ball ok e vado ad respirare mi porto a sedere tolgo la cinghia da lì e la separo diciamo che adesso le mani a forza di stringere un po' si sentono muovete un po' le dita separo la cinghia la prendo con entrambe le mani separo anche le gambe inspiro e poi espirando scavo dall'addome mi porto a sedere stiamo facendo anche degli esercizi per l'addome in questo caso mantenendo la cinghia più o meno all'altezza della zona addominale dell'ombelico porto le braccia su attivo la gamba destra attivo la gamba sinistra io ho tenuto il cuscino se volete toglietelo se volete lasciatelo e mantenendoci in questa posizione andiamo ad alternare il movimento delle gambe in inspiro ed espiro questo è un movimento molto facilitato è come se le ginocchia passassero ogni volta sotto la linea della cinghia no? ispirando abbiamo fatto anche quel bastone questa dinamica così continuo inspiro e espiro alterno il movimento il resto con tutti e due le ginocchia al petto abbasso il mento sollevo il busto se ce la faccio altrimenti resto là distendo una gamba io sto distendendo la gamba destra e andiamo a sinistra e la stessa cosa alterniamo questo movimento delle braccia e della cinghia inspiro inspiro soffio soffio inspiro vado sempre verso la gamba piegata quella che si avvicina inspiro inspiro soffio se non ce la faccio faccio la testa inspiro inspiro soffio soffio inspiro soffio soffio benissimo ritorno giù e appoggio le gambe a terra le tengo belle larghe uscire un pochino a destra e a sinistra anche lo so che questo tipo di esercizio mi crea molta tensione a livello della lombare quindi andiamo a recuperare un pochino togliamo io tolgo il cuscino perché adesso faremo il ponte e la cinghia è perfetta per dare un stimolo in più io allargo bene blocco la cinghia sull'altezza della zona pubblica e sulla linea delle anche blocco bene tengo strette il pugno a terra le braccia tese lunghe i piedi ben al suolo ben spammati giù inspiro e poi espirando cerco di venire su la cinghia mi crea un effetto un blocco no? ok? quindi io devo contrastare la cinghia poi srotolando rilasso e rialargo le braccia espirando spingo dai piedi spingo verso l'alto lascio avvicinare le mani sotto che vanno fino a sotto i glutei e poi rialargo le braccia ritorno verso la terra espirando fuori l'aria mi riporta adesso risciando verso il basso lo faccio un'ultima volta e espirando sento la spinta contro la cinghia da qui tiro sulle braccia sta nel ponte sono lì bello che spingo bene dei piedi le gino che spingono lontane i glutei sono ben attivati mobilizzo le braccia mantenendo la cinghia inspirando le braccia vanno dietro ma non scendo solo le braccia e le spalle inspiro dietro espiro ritorno inspiro dietro espiro ritorno inspiro dietro ed espiro ancora inspiro ed espiro inspiro espiro inspiro facciamo ancora due inspiro ed espiro inspiro lascia le braccia su verso il soffitto srotola la colonna vieni giù piano piano tieni la cinghia ok braccia tese la solleva la gamba adesso 90 gradi solleva la gamba sinistra 90 gradi adesso vai con le gambe da una parte e con le braccia dall'altra ok inspirando espira inspirando non c'è bisogno di arrivare a terra facciamo quello che si può ruoto e ritorno ruoto e ritorno ruoto e ritorno ruoto e ritorno ruoto mi fermo qua e riappoggio i piedi al suolo che ora si sono fatte allora adesso da questa posizione qui mi giro con calma e mi vado a posizionare adesso seduta e in questo caso andiamo di nuovo a legare la nostra cinghia andremo a fare un lavoro laterale quindi dobbiamo bloccare le gambe spostate che mi leggo i capelli allora succede questo io prendo la cinghia più o meno i polpacci faccio anche due giri magari ce la faccio che non scappa poi faccio un bel nodo così non viene via ok e lo tengo bello testo una volta che ho fatto questo vedete ho fatto due giri quindi mi abbraccio anche nel polpacci mi metto lateralmente di fianco distendo le gambe lunghe il corpo bello proteso ci sono delle persone che potrebbero avere bisogno di un asciugamano ho trovato qui per colpa dell'anca comunque stiamo bene in questa posizione e ci attiviamo col braccio in avanti io ho il palmo della mano bene alla terra le gambe sono leggermente sollevate dal suolo i piedi sono attivi in punta e quando adesso tenendoli in punta faccio dei mini spostamenti verso l'alto ispirando e ispirando quindi su le gambe sono tese sono bloccate io allargo la cinghia non faccio diventare molle quindi salgo discendo salgo discendo salgo discendo salgo discendo e mantengo la mia posizione attivo bene il palmo della mano che sta sotto sollevo leggermente attivo qua sollevo anche il braccio e mantengo questa posizione di apertura porto il braccio in avanti ok e mi giro a pancia in giro qui mi posso anche sistemare un pochino meglio scarico la posizione da qui devo sentire anche in questo caso che spingo verso l'esterno con le gambe fletto la spinta fletto e ritorno cercando di staccare le ginocchia quindi fletto e spingo fletto e spingo fletto e la testa è giù io ho appoggiato la fronte sulle mani fletto e spingo fletto spingo rascio teso distendo attivo bene la spinta in fuori sollevo leggermente il capo aiutandomi con le mani con le braccia adesso porto le braccia verso l'esterno come se volessi volare apro verso l'esterno e richiudo apro io sono un po' vicino al mobile ma voi potete tranquillamente riportare le mani sotto la linea delle spalle e riaprire le braccia con le gambe che spingono fuori ispirando 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 mantengo la mia posizione qui di volo un pochino più indietro le braccia le spalle in coro lungo e tengo questa posizione cercando di allargare verso l'esterno non si muove tanto ma voi provateci apro 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 sentirete i glutei apro 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 e stop beh aiutatevi piano piano adesso con le ginocchia portatevi o vi girate direttamente di patto ok perché dobbiamo fare l'altra parte sicuramente si è spostata la cinghia non fa niente adesso ci organizziamo e andiamo a mettere tutto a posto adesso lo facciamo dall'altra parte quindi io vado a rimetterle più o meno nella parte dei porpacci spingo bene fuori mi giro di lato e devo sentire già questa forza di spinta esterna le punte dei piedi sono in là il braccio lungo sotto mantengo la mano sotto vicino alla zona dell'ombelico tendenzialmente e sollevo le gambe sollevo le gambe con le puntine quindi faccio questi sollevamenti verso l'alto inspiro posso anche mettermi con il mano davanti e sento che allargo la cinghia e nello stesso tempo voglio salire su spazio dell'anca libero ok inspiro e non mollo l'apertura devo sempre sentire tensione continuo su e giù su e giù su e giù su e giù e su mantengo qui la mia posizione ok sollevo leggermente sollevo anche il braccio come ho fatto prima verso l'alto e mi giro nuovamente a pancia in giù mantengo questa posizione qua ho rilasciato la cinghia riporto qui adesso i talloni verso i glutei e qua in questa posizione qua semplicemente mi lascio andare poi giù in giù i dita dei piedi riporto indietro guardo il scarico in chai cruz e mi allungo mi libero di questa cinghia una volta per tutte e come vi avevo detto prima andiamo a riprendere la pallina per fare un lavoro di massaggio su questi muscoli qua i trapezzi trapezzi i muscoli del collo la parte posteriore che spesso volentieri sono dolenti quindi questa cinghia la teniamo da parte e riprendiamo la nostra pallina e qui sarebbe bello avere un'altra persona che ce lo fa ma purtroppo non ce l'abbiamo e quindi facciamo l'automassaggio questa è la pallina da tennis riccia quella che volevo mi avvicino un po' di più forse si vedrà meglio e mi porto un pochino verso di voi così magari riuscite a vedermi meglio spero bello forse c'è un po' di buio mi metto una lucetta in più magari si vede un po' meglio qui c'ho i miei grandi sistemi tecnologici di illuminazione fa un po' pena allora che succede io prendo questa collocicione mi metto un po' così da dietro allora questi muscoli qua spesso volentieri andate con le mani pinzate questa parte qua la parte più rossa proprio vedete dove ho la canottiera no? proprio dove c'è diciamo dove c'è la baraternina del reggisano un pochino più su ok? e andate a prendere la patina oh vabbè e andate proprio a creare questa sorta di movimento qui qui con il braccio e vi massaggiate questa zona qua da qui cercate di andare verso l'alto e verso il basso comunque di disegnare dei cerchi concentrici su questa muscolatura il collo leggermente inclinato non bloccate la 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 bocca è molto importante che la non ci sia una chiusura della mascella perché quello blocca tutto e poi andate a fare questi piccoli picchietti sulla sempre su quei muscoli lì sul tappezio e date queste piccole non sempre dal stesso posto ok? qua e poi ritornate a massaggiarvi un effetto spugna in questo caso qua vi portate il collo e fate proprio così come se stessimo spremendo e facendo uscire l'acqua dalla spugna gli cerchiamo di spremere di schiacciare di spingere e creiamo questa dinamica qua ok? adesso dopo che abbiamo fatto tutto questo massaggio anche con le dita con l'altro braccio col braccio che volete quello che vi viene meglio ci fermiamo anche con le dita andate pochettino a fare questa sorta di pressione lungo la linea del collo andate a cercare questo scivolamento ok? e poi vi fermate fate dritti dritti con la testa muovete il capo dalla parte dove avete fatto tutto il massaggio e poi muovete il capo dalla parte dove non l'avete massaggiato e vi accorgerete che il collo dove c'è stato tutto il lavoro gira meglio quindi adesso lo facciamo dalla parte opposta quindi andiamo prima ok? come abbiamo fatto prima mi faccio tutto questo massaggino qui cerco di fare dei movimenti circolari dei movimenti laterali potete scegliere quello che vi sentite meglio anzi magari andate a sensazione qui naturalmente ve l'ho detto è bello quando te lo fa un altro perché riesci a raggiungere più punti che da solo non puoi fare quindi vai con tutta la pallina sposta con i dentini ancora meglio poi vai a fare l'effetto proprio spugna con la mano quindi schiacci premi schiacci premi vai anche un pochino più su crei tutto questo lavoro di pressione puoi farlo anche con l'altro braccio se sei stanco quindi cerca di acchiappare più polva possibile anche qua poi ci vai con l'altro braccio fai anche dei lavori dei picchietti come abbiamo fatto prima nelle cosce e gli dai tutti questi piccoli botte questi piccoli colpettini spero non abbia cambiato posizione perché così ti accorgi delle differenze arriva con l'abbraccio usa anche le dita proprio tenetra come se stessi affondando le dita sulla torta fai salire scendere il movimento ok così poi ti fermi ok adesso prova a girare la testa dove la giravi prima e vedrai che funziona si vedono più cose adesso di quelle che vedete prima sicuramente abbassamento sollevo il mento abbassamento sollevo il mento prova a fare anche dei piccoli movimenti circolari destra e sinistra ok e abbiamo finito quindi quando hai queste sensazioni al collo lo devi massaggiare non c'è altro modo se no massaggiare ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito quelli che vedranno la lezione registrata e vi aspetto per la settimana prossima l'ultima settimana perché poi la settimana l'agosto sta finendo ci potremmo in palestra ok spero di aver rimandato tutti gli inviti quelli che credo di aver mandato i messaggi a tutti ricordatevi che vi aspetto e fatevi sentire buon weekend a presto grazie 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 grazie